Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Alice Campello ha smentito le parole riportate dal magazine C, pronunciate dal marito Alvaro Morata. La separazione tra Alvaro Morata e Alice Campello sta facendo discutere con nuove rivelazioni da parte del calciatore nell'intervista Decorazon. Morata aveva dichiarato di non essere mai stato infedele e che Alice era la donna più importante della sua vita. Ma che la separazione era dovuta al fatto che lei voleva restare in Spagna e non affrontare un altro trasloco. Tuttavia, Alice Campello ha subito smentito queste affermazioni. Con un commento su Instagram, Alice ha negato le parole del marito riportate dal magazine C, lasciando intendere che potesse riferirsi al trasloco a Milano. Inoltre, il giornalista Javier De Hoyos ha raccontato che Alice Campello è stata vista piangere in strada a Madrid di fronte a tutti, quando una fan voleva avvicinarla per una foto ma ha deciso di non farlo perché lei continuava a piangere. La situazione tra Alvaro Morata e Alice Campello continua a tenere banco, con dichiarazioni contrastanti e voci di pianto e tristezza. Resta da vedere come evolverà la situazione e se ci saranno ulteriori sviluppi su questa vicenda che ha colpito l'opinione pubblica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!